e il segno di attraversamento pedonale. Presentato poco più di una settimana fa, l'amministrazione comunale di Fano è già al lavoro per l'aggiornamento del piano urbano del traffico, lo studio che vuole analizzare le criticità della circolazione stradale al fine di migliorare i punti critici della città adottando interventi anche importanti. Il progetto vedrà nella prima settimana esaminare tutte le ciclabili cittadine in sella alle bici, mentre nei prossimi giorni individuare i punti più cruciali dove si congestiona il traffico, ma questa volta a bordo di auto. Questa mattina abbiamo iniziato il giro di prelustrazione in bicicletta insieme ai tecnici di Net Engineering e anche l'assessore Curzi insieme anche all'ufficio di viabilità e traffico. Dopo una settimana dall'incarico abbiamo subito iniziato questi giri di prelustrazione per far sì che le piste ciclopedonali abbiano la priorità rispetto al nuovo piano urbano del traffico che vogliamo realizzare il prima possibile. Quindi insieme alla professionalità dei tecnici inizieremo, abbiamo iniziato dal lungomare, faremo anche la prima cornice del centro storico, loro continueranno per tutta la giornata perché è prioritario creare nuove piste ciclopedonali protette per far sì che le persone possano spostarsi a piedi e in bicicletta in totale sicurezza. Siamo partiti da Viarco d'Augusto, abbiamo percorso tutta la zona mare, dopo la zona mare ci sposteremo verso Via L'Italia, Via della Fornace, Via della Giustizia e quella zona là per andare a concludere verso Via del Ponte, zona artigianale e zuccherificio per intanto fare i primi studi della mobilità dolce anche per mandare al lavoro le persone in sicurezza. I prossimi giorni primo studio nella parte centrale anche con le auto, con l'auto. In questa settimana sono partiti veramente a cento all'ora tutti gli studi sul piano urbano del traffico. Una bella sfida lavorare per questo piano urbano del traffico, afferma Jacopo Ogni Bene, project manager della ditta Net Engineering di Padova, perché ci sono realtà diverse che si alternano durante l'anno come residenti, turisti e soprattutto lavoratori. Il lavoro che abbiamo iniziato oggi con un sopralluogo molto dettagliato e molto puntuale proseguirà nei prossimi mesi con tante proposte in cui si cerca di tenere l'equilibrio fra le diverse componenti che interessano la mobilità di Fano. E al momento avete notato qualche criticità? Le criticità sono sempre le stesse, un po' in tutte le città. Bisogna tenere in equilibrio le esigenze di chi cerca un posto auto davanti a casa o davanti all'attività economica e la massa di persone che invece ha diritto anche di spostarsi in modo sostenibile anche per andare al lavoro. L'amministrazione è chiamata a fare anche delle scelte che per qualcuno possono essere un po' critiche, ma dal punto di vista tecnico la sfida è quella di mettere a valore e dare un grande segno sull'uso dello spazio collettivo, spazio che è di tutti e che tutti devono poter utilizzare al meglio.